Tante novità e una riconferma per i premi Flaiano 2019, tra le prime le apposite sezioni dedicate ai giovani e la doppia serata finale. La riconferma riguarda invece la direzione artistica affidata anche quest'anno al regista Riccardo Milani. Vediamo che i giovani partecipano sempre più alle attività del Media Museum, ma soprattutto volevamo passare dalle parole ai fatti, dare spazio ai giovani, ne hanno diritto, si parla sempre tanto dei giovani, però poi concretamente bisogna fare di più, a nostro giudizio, e quest'anno ci sarà la prima edizione dei Flaiano Giovani. Credo che sia un modo anche per scoprire nuovi talenti. Due serate, una dedicata alla letteratura e una dedicata dal tappeto rosso, insomma al palcoscenico, con autori e registi radio, tv e quant'altro, in due luoghi differenti, uno più deputato all'incontro con gli autori e l'altro invece in piazza. Ci è sembrato giusto fare due serate perché per dedicare maggiore attenzione alla narrativa e all'italianistica, che erano un po' sacrificate effettivamente nella serata finale. E poi dare anche la possibilità al pubblico e ai giurati che voteranno, perché ricordiamo che c'è sempre la giuria dei 100 lettori, di avere una maggiore vicinanza, contatto, di interloquire con gli autori, con i finalisti. Riccardo Milani ha confermato anche per quest'anno la direzione artistica del Flaiano Film Festival e un'ulteriore novità è che ci sarà un film festival dei ragazzi che gestiranno loro e ovviamente supportati da chi ha più esperienza. L'anno scorso è stato veramente uno straordinario successo quello del Flaiano Film Festival, 5.000 spettatori che speriamo di riconfermare quest'anno. Credo che Riccardo Milani abbia dato un contributo importantissimo a tutti.